Grazie a tutti. Grazie per l'invito. Avvocato Alessio Morosin, fondatore di Indipendenza Veneta. Buonasera. E poi abbiamo la parte invece tecnico-scientifica, il professore avvocato Mario Bertolissi, costituzionalista, Università di Padova. Grazie per l'invito. E Gianangelo Bellati, presidente di Longarone Fiere ed economista. Cito Longarone Fiere perché è l'area del bellunese. A cui teniamo tanto per l'autonomia. Esatto, infatti spiegheremo anche perché. Allora, sono delle ore cruciali. Perché? Ma il 15 è prossimo. Si arriverà questa benedetta autonomia? Ci sono dei paletti che sembrano stati posti alla firma dal presidente della regione del Veneto, Luca Zaia. E lì alcune persone giustamente non riescono più a comprendere cosa sta succedendo. Dove si potrebbe arrivare? Addirittura mettere in discussione la stabilità di governo e poi andare ad elezioni. Insomma, ci sono delle perplessità e cose non chiare perché si chiede la regione del Veneto, chiede in modo particolare la delega per quanto riguarda la gestione dei servizi autostradali, delle infrastrutture in modo particolare, molto importanti e strategiche. Ma la Lombardia invece è d'accordo con tutte le questioni e le materie richieste o parla in altri termini con un altro linguaggio. Lo vediamo insieme. Prima di incominciare sentiamo l'intervista che è stata fatta al governatore della regione del Veneto, Luca Zaia. Presidente, questa è la settimana clou per l'autonomia. Ci sei arrivati con un percorso lungo, a volte un po' intricato. Lei ha ancora dubbi? Guardi, io non mi fermo davanti a nulla, visto considerato che il mio motto è che solo i pessimisti non fanno fortuna. Sono riuscito a celebrare un referendum che non volevano farmi celebrare. Ho combattuto fino alla fine per portare 2 milioni e 328 mila veneti a votare. Oggi so che le carte ci sono, il lavoro è stato fatto bene, siamo nelle condizioni di firmare. Si convincano quei due o tre ministeri che hanno ancora perplessità, si pensi che i capponi non si sono mai organizzati la festa di Natale. Per cui andiamo avanti e ci arriviamo anche per la firma. E' sicuro che il testo sarà soddisfacente? Il testo è fiducioso anche perché è l'unica via di uscita. Un paese che ha le entrate che sono inferiori alle uscite, un paese che ha bisogno di riforme e deve guardare i paesi innovativi dove le democrazie mature hanno ancora più l'impositivo. E sono esattamente quei paesi dove c'è federalismo e autonomia. Se il testo non sarà soddisfacente non firma? Ma guardate, non è una sfida. Io spero che alla fine troveremo una soluzione. Noi lavoriamo per trovare una soluzione. Però è pur vero che davanti a 2 milioni e 328 mila veneti non posso tornare a casa da Roma con un'intesa anacquata e che fa palesare un'autonomia finta. Dobbiamo fare un'autonomia vera. Stiamo scrivendo una pagina di storia e stiamo dando compimento a quello che prevedevano già i padri costituenti nel 1948. E' Naudi presentando la Costituzione diceva che ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che si spetta. E' giunto il momento. Non ha detto che avrebbe bloccato la regione, non può fare neanche questo. Io non ho mai detto questo. Ho sempre detto che se l'intesa non è di nostro gradimento non si firma. Ma del resto la Costituzione lo dice chiaramente, la chiama intesa, perché vuol dire che i due firmatari devono essere d'accordo. Quindi il Veneto non prevaricherà Roma e Roma non dovrà prevaricare il Veneto. La situazione per il Veneto. Per voi invece, Assessore, ha l'autonomia. Quindi siete anche voi in pieno. Però avete avuto un modo diverso di approcciare. Spieghiamolo a chi non conosce bene la situazione. Ma sì, innanzitutto siamo passati anche noi da referendum e poi abbiamo scomposto tutte le competenze in funzioni legislative e amministrative, cosa che è stata elogiata dai tecnici del Ministero, senza guardare dritto alla competenza, ma alla funzione legislativa e amministrativa. e in questo momento io sono particolarmente d'accordo col governatore Zaia, perché non si può tornare da Roma con un piatto di lenticchie, è evidente, perché in Lombardia sono andati a votare 3.303.000 lombardi, considerando i lombardi residenti all'estero che sono stati caricati nell'elettorato attivo, praticamente abbiamo portato un lombardo su due a votare, perché abbiamo sfiorato il 50%, è il 38% proprio perché ci hanno caricato i lombardi residenti all'estero. Quindi anche noi non possiamo tornare a casa con un piatto di lenticchie, deve essere un'autonomia piena e io in questo momento è inutile nasconderselo delle criticità per quanto riguarda trasporti e infrastrutture, l'ambiente, la sanità e per quanto mi riguarda, no, sulla scuola secondo me sono superabili gli unpass e per quanto mi riguarda, la madre di tutte le battaglie, perché sono anche assessore alla cultura, che è quella delle sovrintendenze, la regionalizzazione delle sovrintendenze per utilizzare i siti archeologici come leva per lo sviluppo è fondamentale, per cui queste quattro criticità dovrebbero essere risolte in sede politica, perché a questo punto il problema è politico, non è di natura tecnica. Ma i ministri sono stati interpellati, hanno dato almeno a voi una risposta, avete qualche segnale? Sì, abbiamo fatto tavoli, abbiamo gli ultimi la settimana scorsa con l'ambiente e la sanità, per esempio sul tema dell'ambiente, la via, la valutazione dell'impatto ambientale e il tema delle bonifiche non ci sono stati riconosciuti, per noi come Regione Lombardia sono fondamentali avere autonomia per quanto riguarda la valutazione. Ah, non vi sono stati riconosciuti questi. E qui ci sono dei problemi, io approfitto della presenza del professor Bertolissi, che ci siamo seduti spesso al tavolo di fianco a Roma nelle trattative. Io trovo che il problema non sia tanto un problema di carattere politico, di coalizione, di governo, di alleanza, ma sia un problema di mentalità culturale degli apparati burocratico-amministrativi, che sono fortemente centralizzati, è dal 48 d'oggi che gestiscono un potere che è un blocco marmoreo depositato al centro e non sono in grado di andare oltre. E in questa direzione io trovo che il ricorso frequente alle sentenze della Corte Costituzionale, e soprattutto nelle materie più complesse, l'ambiente piuttosto che le infrastrutture. Il tema della chiamata in sussidiarietà che assolutamente non viene applicato. Quando a noi il Ministero dell'Ambiente dice vi diamo tutte le competenze amministrative, ma non quelle legislative, e qui esiste la chiamata in sussidiarietà, se mi dai la competenza amministrativa, visto che sono ente legislativo, devi darmi anche il potere legislativo. Terzo tema, che è quello che sollevava Zaia nella sua intervista, l'intesa. Esiste il principio di leale collaborazione. Se mi dici questa cosa non te la domi, devi spiegare perché. Cioè noi abbiamo chiesto la formazione dei volontari della protezione civile, noi come Lombardia, perché le performance del sistema formativo lombardo sono di assoluto livello, di eccellenza a livello europeo. E allora abbiamo detto, visto che siamo bravi a fare la formazione, vogliamo anche la formazione dei volontari della protezione civile. Se mi dici di no, devi argomentarmi, siccome la richiesta l'ho argomentata sulla base del rendimento del sistema formativo lombardo, e ti dico dammi anche la formazione dei volontari della protezione civile, se mi dici di no devi spiegarmi perché, devi motivarlo. Non basta dire di no, punto e basta. E qui non c'è una questione economica. E queste tre criticità tecniche, cioè la giurisprudenza costituzionale, la chiamata in sussidiarietà e la leale collaborazione, certificano questa mentalità fortemente centralista che c'è negli apparati burocrati e amministrativi con i quali abbiamo trattato. Professore, visto che è stato anche chiamato in causa, che cosa ne dice da questo punto di vista? È pesante questo blocco che esiste perché potrebbe veramente ostacolare in modo significativo. Dunque, sono d'accordo con quello che ha detto un istante fa il professore perché il primo ostacolo è davvero di carattere psicologico. Cioè, lei vede, è nella nostra tradizione, il fatto che coloro che stanno dentro le strutture, in specie ministeriali, per loro formazione non sono in grado di pensare il plurale. Il plurale non esiste. Se tu lo porti dal professor Vittorino Andreoli, li trattiene subito tutti per una visita... Non lo dico che da voi... No, lo dico perché sono barriere psicologiche che diventano barriere architettoniche e voi sapete che queste riguardano i portatori di handicap. L'handicap è proprio... Si traduce poi un handicap per le istituzioni. Perché qui non si può continuare sempre ad andare di fioretto. Se scelva e lascia, si usa e lascia. Allora, questo film è stato... Diciamo che adesso è un filmino, perché in passato in realtà è stato molto più dura. Anzi, non è venuto fuori proprio niente. E l'operazione è stata sempre condotta nei medesimi termini. Diceva appunto un istante fa l'assessore che questi sono stati gli ostacoli. Quando si discute di infrastrutture, tanto per intenderci, veniamo alla questione della conservazione al centro delle funzioni strategiche. Allora, io, da semplice avvocato di pretura, ragiono così. Tu vuoi conservare le funzioni strategiche. Ma sei uno stratega? Perché allora comincio con enunciare e dire come stanno le cose nelle materie che tu gestisci. Governi e gestisci in tutti i modi. Facciamo un esempio caso. Questo è il ragionamento del buon padre di famiglia. No, no, no. È un discorso di un professore che sa parlare il linguaggio della semplicità. Perché le cose le sa. Scusate un secondo. Allora ti faccio il caso della giustizia. Chi è che ha competenze in materia di giustizia? Ce l'ha lo Stato. Nelle classifiche mondiali, dove ci troviamo? Punto di domanda. La risposta è semplice. Nelle ultime posizioni. Chi è che impedisce allo Stato di essere nelle prime? Lo Stato stesso. Vuol dire che non sa. Essere né stratega né gestore. Vuole che facciamo un altro esempio. Il campo dell'istruzione. Grandi discussioni sul personale. Ma domanda. Ah, tra l'altro, subito si inseriscono gli intellettuali. I quali dicono, sicuramente, le regioni vogliono farsi un programma, riscrivere la storia. Ho scritto un giorno, introdurre il Ministero per la Cultura Popolare. Il Mincul Pop. No. Le regioni vorrebbero, ad esempio il Veneto, vorrebbe fare che cosa? Una cosa meravigliosa. Cominciare l'anno scolastico con tutti i professori al loro posto. Il personale è nelle mani dello Stato. Vi risulta per caso che si cominci con tutti i professori al loro posto. Per metà dell'anno c'è il caos. Con disordine per gli studenti, disordine per le famiglie. Vogliamo quantificare i danni. Tutti. E io potrei andare avanti all'infinito. Cioè, chi parla di queste cose e dice, lo devo tenere io in mano le redini. Le redini nel senso, anzi detto, devo essere perfasivo. E perché non riesce a rendersi conto che dovrebbe fare davvero il regista. Ma allora deve andare a Cinecittà, studiare bene come si fa il regista. Ecco, ma non scrivere, mettersi l'etichetta in autonomia, in modo autoreferenziale. No? Io sono un regista. Perché non sei capace? Questo è doloroso. Perché, e qui chiudo per dire, magari avessi, se fosse vero che lo Stato è in grado di fare quello che pretende di fare chiedendo di trattenere sempre per sé certe funzioni. Perché poi aggiunge, in funzione della coesione sociale. Attenzione, che la coesione sociale deve esserci nella realtà, non sulla carta. L'unità delle regioni, cioè le regioni tutte uguali, sono sulla carta, non sono mai state tutte uguali. E qui io devo citare il mio maestro, il professor Paladin, che nel 1976, finita la prima legislatura regionale, scriveva, ci sono le regioni di serie A, ci sono le regioni di serie B e le regioni di serie C. E il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, nel 2008, nelle sue considerazioni finali, diceva, questa distanza si sta progressivamente dilatando, pur in presenza di imponenti trasferimenti di risorse dal nord al sud. Questo sta scritto nelle sue considerazioni finali, nel capitoletto federalismo fiscale. Non lo dice Mario Bertolissi. Allora, ci si deve misurare con la realtà. Poiché le cose non vanno bene, non mi pare che vadano bene, e anzi peggiorano, io credo che stare fermi, bloccarsi su quello che c'è, sia innanzitutto dal punto di vista della logica più elementare, un controsenso. Ed è per quello che prima parlando non ho usato delle perifrasi, perché io sono seccato come cittadino contribuente. Chiarissimo. Presidente, allora, allo stato dei fatti però è stata netta un po' la presa di posizione. E secondo me, non lo so, potrebbero succedere di miracoli, però il ministro Toninelli non credo che ceda. E le posizioni rigide che ha illustrato il professore sono chiare. Quindi, da una parte la Lombardia si troverà in una situazione di cui noi non bene conosciamo, perché se ne parla pochissimo a livello nazionale non si menziona la cosa, si tiene tutto nel tranquillo. A livello nazionale poco si parla della situazione in Veneto, però ci sono delle perplessità. Allora, la situazione sicuramente non è semplicissima, per come io stavo prima Stefano e il professor Bertolissi. C'è un blocco interno ai ministeri, burocratico ministeriale, che ha il timore di perdere il potere di mettere un timbro. Ha il timore di perdere il certificato di esistenza in vita di un posto di lavoro dentro al proprio ministero. Ma poco. Così le cose non funzionano. Non è pensabile possibile che per le sovrintendenze ci sia una impostazione culturale completamente contraria a qualsiasi forma di decentramento verso le regioni. noi vogliamo che le sovrintendenze siano enti efficaci e efficienti che diano risposte all'economia, al mondo sociale, a chi fa cultura in Veneto in tempo normale, non in tempi alla velocità della luce, ma quello che invece abbiamo in questo momento è tempi biblici per avere qualsiasi tipo di confronto e di risposta. Rendere efficace e efficiente la macchina amministrativa è quello che noi da pubblici amministratori cerchiamo di fare ogni giorno, cosa che invece a Roma non fa parte del DNA di qualche ministero. Quindi ci sono dei blocchi specialmente interni. Abbiamo visto anche sensibilità diverse di vari ministri. Alcuni ministri hanno spinto la propria struttura a rispondere in tempi veloci, in tempi ceri e anche con impostazione diciamo chiara. Qualche altro ministro è un po' più disattento. Entro un attimo nella parte politica, sicuramente il risultato dell'Abruzzo sta creando qualche fibrillazione interna al Movimento 5 Stelle. Pazienza, ma se uno ha l'incarico di ministro deve esercitarlo nonostante accada qualcos'altro in giro per il territorio. Quindi io non mi sento, diciamo, io non sono per l'ultimatum, penultimatum, se non è il 15 sarà qualche giorno dopo o altro. L'importante è che la cosa sia fatta bene. Ma come diceva prima Stefano Bruno Galli, la questione adesso secondo me diventa politica. Secondo me si arriverà in consiglio dei ministri, a un certo momento, magari venerdì si farà un punto e si dirà fra ministri, fra leader politici, ragazzi la deadline è questa, si decide qui cosa c'è. La posizione del Veneto è che se in Costituzione sono previste 23 materie o ci viene spiegato perché no, perché come diceva Bertolissi, noi pensiamo di essere normali a far partire l'anno scolastico con tutti gli insegnanti. A scuola della mia bambina abbiamo avuto l'ultimo insegnante arrivato a Natale. Cioè crei dei danni ai ragazzi, al programma annuale della classe e della scuola che è devastante. Cioè i danni che vengono fatti, i danni che ha fatto il buono a scuola sono incommensurabili, sono neanche monetizzabili da quanti danni creano appunto ai ragazzi che vanno a scuola. Ma questo è un esempio come può essere appunto la gestione delle concessioni autostradali. Noi pensiamo di fare le cose un po' meglio. Quando ad esempio l'Ape de Montana arriva completamente in carico alla regione il 1 gennaio 2017, superiamo delle situazioni che il ministero non aveva né affrontato né risolto. Ripeto, noi abbiamo la presunzione di saper fare leggermente meglio di qualche ministero. Forse perché c'è un modo diverso di affrontare l'amministrazione, c'è un modo diverso di fare il bene della cosa pubblica, ma ripeto, noi abbiamo la presunzione di saper fare meglio. Quello che pensa qualcuno in qualche ministero è di rendere tutti uguali, ma guardando a ribasso a fare le cose fatte peggio per tutti. E questo non penso sia un bene neanche per gli abitanti del sud Italia. L'ultimo passaggio politico, noi leggiamo la rassegna stampa di tutta Italia e vediamo gli attacchi che vengono fatti dagli organi di stampa del centro e del sud. C'è il messaggero che sta facendo una serie di articoli terrorizzanti su cosa perderebbe Roma se passa l'autonomia. E le altre regioni, naturalmente. E le altre regioni, ma ho visto che i risultati dell'Abruzzo non hanno influenzato l'elettorato. Se la Lega è il primo partito in Abruzzo, nonostante questa campagna mediatica pesantissima sugli organi di stampa che presentava appunto uno spauracchio tremendo dell'autonomia e cosa capiterebbe in certa realtà del sud, abbiamo visto l'elettorato invece premiare proprio la Lega in maniera chiara e inequivocabile. Quindi per fortuna che la gente ragiona anche oltre certi stereotipi e certi messaggi che vengono fatti passare, cito il professor Viesti che mi sembra indemoniato negli ultimi mesi in maniera particolare, ma queste cose per fortuna la gente anche nel sud Italia capisce che non sono contro qualcuno, ma servono a rendere più efficace e efficiente l'azione amministrativa di certe realtà e mi auguro poi di tutta Italia. Assolutamente. Sono una cosa, una provocazione, dopo dobbiamo andare anche in pubblicità. Se si va a lezioni tra poco anche in Regione Veneto, comunque non è prossimo, comunque ci vuole un annetto, è il prossimo anno. Sì, sì. Qualora cambiasse il tipo di governo della Regione Veneto, voi sareste sempre della stessa opinione? E questo è tanti cittadini, a me non mi hanno perso le... Se cambia il governo in Regione... Cioè nel senso, se la Regione passasse alla sinistra per esempio... Allora, per fortuna... Perché questa è una provocazione che hanno fatto i cittadini e la riporto, perché mi ha incuriosito. Per fortuna che c'è un referendum fatto in maniera chiara ed inequivocabile. Io mi onoro di essere stato con il professor Bertolissi il 28 aprile 2015 in corte costituzionale. Ho visto una corte entrata granitica, l'ho vista uscire dopo la sua performance, mi permetto di dire, con appunto i dubbi che poi hanno portato a fare il referendum. Se non avessimo fatto il referendum, in questo momento saremmo presi a pernacchie. E invece nei momenti più critici, Zaya lo usa spesso, ma nei tavoli in tentativa, viene comunque sempre fatto presente che il Veneto ha votato in maniera chiara ed inequivocabile il Veneto e Lombardia con milioni di persone che hanno chiesto una cosa chiara. E per fortuna che c'è il referendum, ripeto, e che sta anche spingendo certe realtà più recalcitranti a far capire che la volontà popolare non può essere calpestata. Assolutamente, grazie. Pubblicità poi torniamo insieme tra poco.